Intanto siamo soddisfatti per il risultato di domenica, sappiamo che non abbiamo fatto nulla, perché intanto la strada è ancora lunga e poi sappiamo che non esiste pensare che a Milano si trovi una squadra in crisi, perché sono talmente forti che basta un niente per cambiare l'equilibrio della partita, quindi siamo consapevoli di tutto questo, di quello che abbiamo fatto, che siamo soddisfatti, di quello che c'è da fare che è ancora molto e della partita che andiamo ad affrontare che è difficile, però noi l'affrontiamo con la nostra serietà e tutto quello che segue.